E' finito, è finito il quarto episodio, adesso ragazzi stoppo il video party, ok, ci siamo. Ok, ci siamo, l'occhio, eh Rox, per citare te, apoteosi dell'assurdo, meraviglioso il decreatore, sì. Allora, adesso faccio una breve analisi, io ho visto in questo quarto episodio consapevole che sia la prima parte di un'altra storia, cioè di una storia che probabilmente si collegherà anche alla storia principale, però questo lo vedo come saga filler, diciamo. Serve di più a presentarci un po' di più di personaggi. Abbiamo visto il personaggio interpretato dal Crowley di Supernatural, al Kipling, che è un cavaliere del Templare. Abbiamo visto che cercava Niles in qualche modo, chissà cosa nasconde Niles. Abbiamo visto un po' Cyborg attivare, però mi sono piaciuti di più i due episodi, il secondo e il terzo episodio. Però sono consapevole che questa sia la prima parte, magari la seconda parte chiuderà il cerchio e mi piacerà di più. Però è un buonissimo episodio. Io, oltre al montaggio, che qua, il lavoro di montaggio, la regia è buona, è molto buona, però un bellissimo lavoro di montaggio l'ho trovato di più sul terzo episodio. Qua ho trovato molto però i dialoghi. I dialoghi e l'interazione, anche magari scherzosamente fra i personaggi, anche in battuta, però sono scritti veramente egregiamente. E poi, io lo sto guardando in italiano, quindi non so, in originale, sicuramente ci saranno riferimenti a altra cultura, altra cultura pop diversa dalla nostra, probabilmente, o magari uguale. Chi lo sa. Però è una serie di altissimo livello. Assolutamente, assolutamente. Io sono contento di averla vista. Devi entrare nell'ottica assurda, hai ragione. Ma qui era davvero difficile fare il montaggio, sì. Sì, sì. Io... Sì, devo entrare nell'ottica... Sì, è assurda. Perché, alla fine, abbiamo visto che Cliff e Jane sono dentro la casa, praticamente, rinchiusi in una... Quelle bocce di vetro, che andavo a pensare. I clown... I giganti vestiti da clown, come li avevano definiti Cliff. Che poi, alla fine, sono i genitori del ragazzo, che è un libro... Cioè, è una cosa assurda, veramente. Però... Sì, lo so, devo entrare nell'ottica, probabilmente, Mr. No Body sarà l'apoteosi dell'assurdo, come dici tu. Quei che qua non si è visto, comunque. Adesso non so se farà parte di questa piccola microtrama, perché ho capito che questa è una storia a sé. È sempre, comunque, all'interno della stagione, è un po' filler. Pensavo che l'episodio filler fosse quello della... Lo scorso, il terzo, invece... È questo. Però, sono contento di averlo visto. E adesso, domani, ci guarderemo il... Il quinto episodio. Ancora Rita in... Non ce l'hanno presentata bene. Io so che... Ancora di più Larry. Abbiamo visto ancora flashback di Larry attraverso cose diverse. Mentre l'entità negativa gli faceva vedere le cassette. E Rita, abbiamo visto che è riuscita ad allungarsi senza diventare... Senza squagliarsi. Quindi, probabilmente, anche Rita evolverà i suoi poteri. Cliff riuscirà a tenere bada alla sua sete di sangue. Jane riuscirà a districarsi tra queste migliaia di... Migliaia, sono 64 le sue personalità. Però, sempre, riuscirà a tornare all'originale personalità. Questa bambina, che probabilmente è lei. Che abbiamo visto alla fine. Cyborg, abbiamo visto... Utilizzare i suoi poteri, anche lui. Non lo so, io sono curiosissimo. Comunque... ... Grazie a tutti